Franco con una bicicletta girata con le ruote verso l'alto e uno che girava i pedali e lui con l'olio e la catena ha fatto tutta la parte dei capelli, poi c'è il solito suo spruzzo di vino rosso, credo che difficilmente uno abbia la fantasia in quel momento di tirar fuori ad esempio l'olio e la catena della bicicletta per fare un quadro. Il poeta ha la parola, canale ha la penna, la mattita, lo yaz, il grasso, la patina, perché ci sia qualcosa da usare per fare un disegno lui lo usa e dove mette mano riesce sempre a fare qualcosa di buono. Lui è partito vedendomi uscire con un piatto, con questi asparagi. Questo qui è il pozzo che avevo fatto per seppelire mia suogera quella volta, poi non mi è riuscito da fare. E la bimba ti guarda, è lei che studia te, sei sotto un processo. Perché quella caricatura? Ho appena stato operato il cuore, io qui ho una valvola di maiale, io sono ordinato grazie a un porco. Nota la maestria con cui è disegnato Isabel, sei in secchi e preciso, senza ritocco, questa è maestria. Il risalto, anche qua lo spazio, è dominato dal volto soprattutto, dal volto. Cioè non è un ritratto, è un'anima. Praticamente mi uso vino e poi i colori che la signora... Maria dammi i colori! Di Canale possiamo dire solo una cosa secondo me, che è un puro. Dei puri pochi che sono rimasti artisti. Grazie a tutti!